Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, quest'oggi è giovedì, di solito di norma il giovedì noi ci occupiamo di questioni che hanno a che fare con il sociale, nella seconda parte avremo ospite il direttore scientifico della Fondazione Fegato Claudio Tiribelli con il quale parleremo di una serie di progetti in essere, dove invece in questa prima parte siamo in compagnia di Valentina Bach e Gabriele Paoletti della comunità di Sant'Egidio con i quali parleremo dell'attività della comunità anche alla luce del fatto che a Trieste la comunità di Sant'Egidio esiste da 35 anni, quindi questo è un compleanno come si dice un compleanno di mezzo, i 5 sono i 10 compleanni tondi, questo è un compleanno di mezzo che insomma è giusto festeggiare o quantomeno festeggiare un compleanno di mezzo o tondo serve anche poi per fare un po' di bilanci e per anche inquadrare l'attività della comunità. Intanto grazie per essere tornato a trovarci e venuta per la prima volta. Allora, lei è un po' quella che ha portato la comunità di Sant'Egidio a Trieste? Sì, io avevo 17 anni e avevo vinto una borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito. Adesso non ce l'ho più, mi dispiace. E avevo vinto la borsa di studio del Collegio del Mondo Unito, ma pochi mesi prima di arrivare al Collegio del Mondo Unito avevo conosciuto la comunità di Sant'Egidio in Liguria dove vivevo a Savona. Ti ho fatto i militari a Savona. Ah sì, allora? Tre giorni, ma questo è un altro discorso. E mi aveva cambiato la vita perché avevo iniziato ad andare ogni due volte alla settimana a fare un doposcuola per i bambini che vivevano in case molto poveri vicino al fiume. E questa esperienza mi aveva segnato tantissimo. Era come aver trovato un gioiello, finalmente una cosa che un po' rispondeva alla mia sete di fare qualcosa, di cambiare il mondo. E quando sono arrivata al Collegio del Mondo Unito, per quanto l'ambiente è bellissimo, era stimolante, mancava qualcosa. E mancava questa esperienza, oltre che sociale e anche spirituale, della comunità di Sant'Egidio. E quindi io praticamente ogni singola sera, utilizzando la cabina telefonica che nella piazzetta di Duino, chiamavo le persone della comunità di Sant'Egidio di Genova, che erano la comunità un po' più grande, e dicevo ma io voglio iniziare la scuola della pace, la scuola per i bambini poveri anche qui. Mi dovete aiutare perché ne ho propria intenzione e non mollavo. E finalmente a dicembre 1989 hanno iniziato a venire regolarmente da Genova ad aiutarmi a realizzare questo sogno. Quindi, sarebbe una battuta troppo semplice. Quindi anche i genovesi hanno un cuore d'oro. Hanno un cuore d'oro e voglio ricordare che queste stesse persone non solo sono venute la prima volta e sono venute ad aiutarmi a conoscere Trieste perché io ero appena arrivata ed ero a Duino comunque. E quindi abbiamo, in più di un weekend, sono venuti e abbiamo iniziato a prendere gli autobus della città e fare tutto il giro per vedere dove erano i quartieri di periferia, come erano. Quindi siamo approdati a Melara, alle case dei Puffi e poi anche a Valmaura. E Valmaura c'era sembrata un quartiere che era anche un po' più alla portata di una diciassettenne e di altri liceali per iniziare qualcosa con i bambini. Perché voi eravate, sì, eravate giovani. Eravamo giovani. E poi mi hanno aiutato perché di mattina sono andati, a volte con me e a volte io non potevo seguirli perché ero a scuola, a parlare nelle classi del liceo Petrarca e poi del Galilei negli anni successivi e a spiegare qual era stata l'esperienza di Sant'Egidio. Anch'io ho spiegato la mia esperienza, la mia esperienza proprio di amicizia con i bambini e a chiedere se qualcun altro era interessato a unirsi a questo sogno, a questa idea. E quindi poi a fare degli incontri al fine settimana in cui spiegavamo la comunità in cui loro tornavano ad aiutarmi. Quindi loro poi sono tornati per anni, ogni fine settimana, prendendosi il treno di notte al venerdì e ripartendo al sabato notte o alla domenica mattina e facendo questo avanti e indietro tra Genova e Trieste per anni per aiutare a far crescere questo piccolo semino di Sant'Egidio. Quando si è strutturata in maniera più stabile la comunità, in quali anni più o meno? Diciamo che fin da subito, fine anni Ottanta e inizio anni Novanta c'è stato questo bel gruppo di liceali, studenti di altre scuole che man mano, partendo appunto dal quartiere di Valmaura o da altre periferie come allora Borgo San Sergio, ma anche per certi punti di vista Roiano o alcune zone di San Giacomo, ci si ritrovava e man mano, crescendo anche da adulti, si aggiungevano altre persone che conoscevano questa realtà della comunità di Sant'Egidio a Trieste e pian piano con la simpatia di questi liceali che iniziavano sempre attorno alla preghiera a iniziare a costruire dei servizi veri e propri per la città come un doposcuola a Valmaura, la scuola della pace sull'esempio di Domilani oppure il servizio agli anziani andando a trovare gli anziani che vivevano da soli a casa San Giacomo a Roiano ma anche all'istituto, particolarmente all'ITIS e quindi dagli anni 90, da questo piccolo seme è nato un grande albero che poi alla fine è arrivato ai giorni nostri e questo 35esimo anno che quest'anno nel 2024 possiamo festeggiare ci vede veramente in tantissimi, nel senso che ci sono ormai un centinaio di volontari stabili che frequentano questa bellissima casa dell'amicizia che è nata in via Romagna quindi al centro, centro di Trieste e che ci accompagnano però in quelle che sono le periferie che dall'89 come lei sa sono cambiate tanto a Trieste. Ecco appunto 35 anni, è un periodo di tempo molto lungo, non forse altro, ne discutevamo prima che incominciasse la trasmissione su un altro per i cambiamenti tecnologici, insomma tutte queste cose, probabilmente noi non sapremmo se fossimo catapultati nuovamente nel 1800, nel 1989 ci troveremmo in difficoltà probabilmente perché certe cose veramente, insomma è cambiato tantissimo, non è cambiato l'impegno ma immagino che anche l'impegno è andato tarandosi a seconda dei cambiamenti. Certo e anche dei bisogni della città perché Sant'Egidio è anche un aiuta e insegna ad amare la città, ad amare la città sia a Trieste come un po' in tutto il mondo e per cui amare la città vuol dire vedere man mano le domande che arrivano e quindi negli anni la seconda, la prima appunto è stata quella dei bambini che comunque è quello di squadra della pace, è sempre stato un servizio molto importante e anche molto audace perché alcuni di questi bambini che noi seguivamo avevano seri problemi, li abbiamo aiutati a crescere con una fedeltà, un'attenzione, però contemporaneamente è nato già nei primi anni essendo noi a Trieste un servizio anziani e quindi quando noi facevamo i primi anni dell'università mentre alcuni di noi hanno continuato a fare il servizio con i bambini, altri si sono concentrati su un servizio con gli anziani, anche questo particolarmente audace perché l'obiettivo era quello di aiutarli a rimanere nelle loro case e non costringerli a finire in un istituto a causa dell'isolamento e dell'abbandono, quindi anche dando un supporto concreto di compagnia ma anche di creazione di una rete intorno a loro. E poi altre esigenze sono nate negli anni come quella della scuola di italiano per gli stranieri o il servizio che facciamo adesso di consegna delle spese alimentari in tante case di Trieste. Però la struttura, per rispondere anche alla domanda di prima, c'era da subito perché la struttura era molto semplice, era fare un giorno alla settimana un servizio, pregare insieme e creare una fraternità, un'amicizia che potesse tenere insieme questo gruppo di persone che venivano da posti completamente diversi e che invece dovevano crescere anche nella collaborazione, quindi nell'amicizia e nel senso di comunità. Ma il rapporto della comunità appunto con la città, adesso lasciamo perdere Trieste che ha appunto le caratteristiche, però significa che ogni comunità di Sant'Egidio è leggermente differente, cioè si caratterizza dalle, chiamiamole necessità, della città in cui opera. Certo, diciamo che lo spirito della comunità effettivamente vive la città come dimensione propria, quella della città. In tutto il mondo la comunità di Sant'Egidio è replica diciamo questo suo carisma, questo suo spirito che si raccoglie attorno alla preghiera e a questi servizi che vengono svolti nella città. Sicuramente ogni città poi sviluppa dei servizi in base alle esigenze che ci sono. Qui a Trieste abbiamo avuto anche un servizio particolare molto bello che si è sviluppato attorno alla preghiera in stazione con quelli che diciamo vivevano, vivono in stazione e che hanno partecipato per anni alla preghiera che abbiamo tenuto anche nella cappellina. Quindi è stata una cosa che ha caratterizzato la comunità di Sant'Egidio di Trieste. In ogni caso dovunque c'è la comunità c'è un luogo di preghiera e effettivamente noi abbiamo sempre avuto cura di queste diciamo per definirle così queste tre nostre caratteristiche che sono la preghiera, i poveri e la pace. Questi sono i tratti che contraddistinguono la comunità di Sant'Egidio e che fin da subito, fin dagli anni 90 noi abbiamo sposato anche come giovani liceali o comunque studenti insomma. Grazie a queste persone che venendo da Genova da Roma ci hanno aiutato paradossalmente a capire ancora meglio la nostra città. Eh sì perché ci vuole sempre un occhio strano insomma. Lei che scuola ha fatto? Io ho frequentato liceo Petrarca ed ero da sempre sono vissuto nel quartiere di Valmaura che appunto mi è stato fatto anche capire meglio per quanto riguarda le difficoltà che c'erano all'epoca, penso alla dispersione scolastica che c'era a Valmaura, penso però anche alla fine degli anni 80 anche alle morti solitarie degli anziani che ancora imperversavano a Trieste. Quindi questi nuovi occhi, questo nuovo spirito con cui abbiamo potuto vedere la città, ci ha fatto sorgere tanti servizi e tanti momenti in cui abbiamo incontrato i poveri della città. Tutto questo poi fin da subito ci ha fatto incontrare questi poveri ma soprattutto questi amici che ci siamo fatti, amici di tutte le generazioni ma anche di tutte le nazionalità e tutte le lingue e ci ha portato anche a creare questo momento molto bello che ormai la città di Trieste conosce molto bene che è il pranzo di Natale. Effettivamente il pranzo di Natale è un po' il momento in cui si riassume questa amicizia che viviamo con queste persone che invitiamo e che vengono a questo pranzo. Mi sembra che noi ne abbiamo parlato del pranzo di Natale di quest'anno con tante ospiti se non mi sbaglio pare che io stavo in piedi per dirigere meglio il traffico. Allora io non vorrei parlarne perché insomma è un momento che per certi versi è meglio consegnare già la storia però insomma bisogna farlo per tutta una serie di ragioni e cioè il periodo pandemico. Il periodo pandemico ha modificato parecchio non credo tanto delle nostre vite perché penso che fondamentalmente si sia tornati al periodo pre-pandemia però logicamente alcune realtà come le realtà del volontariato e come anche altre poi hanno dovuto modificare il proprio lavoro in quel periodo ma poi hanno anche ove possibile fatto tesoro di quelle costrizioni, di quegli obblighi eccetera magari per modulare servizi nuovi o per eventualmente come dire cambiare servizi, servizi già in, è una volta terribile, servizi già in atto. Immagino che anche voi appunto si è... Anche il nostro servizio appunto di portare le spese a casa è nato durante il Covid. Noi avevamo già negli anni precedenti, da vari anni, con l'aiuto della Fondazione CR Trieste la possibilità appunto di dare le spese e quindi di dare un supporto alimentare alle persone che venivano alla nostra casa dell'amicizia in Via Romagna ma con il Covid ci siamo trovati a non poterle più avere fisicamente lì. E oltretutto ricordiamo da un momento all'altro perché... Da un momento all'altro. Insomma, sì. E quindi ci siamo organizzati per portarle, tra l'altro con tutta una serie di difficoltà ma siamo riusciti a portare le spese a moltissimi dei nostri iscritti al centro di solidarietà a casa. E questo anche grazie al sostegno della Fondazione che ha capito che doveva anche rimodulare un attimo il progetto e sostenerci in un modo diverso. E quindi a questo punto quando è finito il Covid e siamo ritornati ad aprire il centro di solidarietà abbiamo pensato che alcune persone un po' più fragili, un po' più in difficoltà che avevano più difficoltà a venire al centro e che continuano a essere molto affollati e quindi anche molto a rischio, insomma. Sì, per certi aspetti non capire. Potevano invece essere visitate a casa e la consegna della spesa è anche l'occasione per vedere come una persona sta, per fare una visita, per fare due chiacchiere e quindi è un servizio anche in cui molti dei nostri volontari possono dare una mano perché è al sabato e quindi è un servizio più facile di altri servizi che magari sono durante la settimana e ad orari un po' più difficili, insomma. E qui, ne discutevamo prima, non è necessaria un'iscrizione al servizio, come posso dire, ferrea? Chiaro, esatto, esatto. I nostri servizi si basano sostanzialmente sull'amicizia, nel senso che non si tratta di una struttura burocratica che segue le persone. La stessa borsa della spesa che noi portiamo ogni sabato è più un pretesto per mantenere il contatto con la persona, per vedere come sta e soprattutto quali sono le sue esigenze. Tornando al discorso che facevamo anche sulla pandemia, diciamo che la cosa bella è che la comunità è riuscita a non interrompere questi contatti. Grazie a Dio il telefono ci ha aiutato tanto in questo, appunto, dalle cabine telefoniche ai cellulari di oggi, ma anche al fatto di pensare e comunque mantenersi in contatto e informarsi. Penso anche ai bambini della scuola della pace, di questo dopo scuola, che durante la pandemia preparavano anche dei biglietti che poi si portavano, si ricapitavano nelle casse delle poste degli anziani o di coloro che erano costretti a rimanere a casa e che si sentivano meno soli. Quindi questa, diciamo, grande famiglia della comunità, questa comunità che si estendeva a tutta la comunità, rimaneva comunque in contatto anche in un periodo in cui effettivamente distanti eravamo. Per quanto riguarda invece il centro di solidarietà presso la Casa dell'amicizia in Via Romagna 22, la cosa bella è che tutto nasce molto da un rapporto informale, quindi ci sono amici che portano altri amici e alla fine le segnalazioni anche di esigenze arrivano. Le famiglie tristine che noi seguiamo sono tante, sono in aumento un po' perché aumenta la nostra famiglia, ma un po' perché sono anche aumentate le esigenze dovute anche alla povertà crescente nella nostra città. Quindi sicuramente è un discorso che infieri, ma è un discorso che chiama tanti ad aiutare. La cosa più bella che noi riscontriamo è la simpatia che la comunità di Sant'Egidio suscita nei tristini, ma anche la grande risposta, perché tristine e tristine sono delle persone che magari si lamentano, magari sono un po' così brontolone, ma alla fine una mano la danno sempre. Ecco, questa è questa caratteristica della città che, insomma, Trieste è come Frank Sinatra, nel senso che adesso non per… era uno che faceva la beneficenza senza farsi… anzi, chiedendo in giro che non si sapesse quello che faceva, che forse è il modo, tutto sommato, anche più giusto, ma insomma poi dopo ognuno fa come meglio crede. Però c'è questo, non è una città che passa per essere una città piuttosto… adesso non vorrei citare Saba, una scontrosa grazia perché non ne posso più, però è vero, no? Cioè apparentemente rigida, ma in realtà poi sotto sotto è buona. Sì, ho imparato a conoscerla già quando ero al Collegio del Mondo Unito con le canzoni triestine che mi insegnava il nostro maestro di coro, ma poi nella vita soprattutto di questi anziani che ho conosciuto negli anni pieni di vita e pieni di allegria e di generosità. E questo nonostante il passare degli anni, nonostante anche appunto che insomma in questi ultimi anni le difficoltà siano forse diverse rispetto a quelle di anni fa e per certi aspetti sembra quasi che si abbia meno speranza, però non so se è una mia impressione o no. E nonostante questo ugualmente c'è questo fondo di bontà. Sì, di bontà e poi la speranza, basta un'altra persona che ha speranza e poi la speranza torna. È contagiosa, questo è anche vero. Allora, per quanto riguarda il 35ennale, voi non è che lo festeggiate con iniziative particolari eccetera, però diciamo che da un certo periodo di tempo a questa parte potete contare anche sulla chiesa di Sant'Antonio Vecchio. Per noi è Sant'Antonio Vecchio, non so che nome abbia poi, come si chiami in realtà, ma il riferimento è Sant'Antonio Vecchio. Quello che si trova materialmente in Piazza Ortis, quindi in Cavana. Sì, noi effettivamente abbiamo ricevuto questo bel regalo anche per questi 35 anni della comunità di Sant'Egida di Trieste perché siamo ospitati presso questa chiesa nella quale riusciamo a, diciamo, tenere una preghiera ogni martedì alle 18.30 e una messa sempre alle 18.30 la domenica. E in particolare il primo martedì del mese la preghiera è dedicata ai malati, quindi si prega proprio per i malati. Nell'ultimo martedì del mese invece preghiamo per la pace, che mai più di adesso, diciamo, è un'esigenza sentita da tutti. Il primo martedì del mese invece, come dicevo, preghiamo per gli ammalati e abbiamo riscontrato che è un momento tanto apprezzato da tanti perché in una città che di corsa lavora in un quartiere come quello di Cavana in cui si va magari a prendere l'aperitivo, si esce dall'ufficio o altro. Ecco, parlando anche di cambiamenti, chi avrebbe mai immaginato che Cavana sarebbe diventata il centro della movina? Proprio così, è vero. C'è stato un cambiamento proprio da così a così nella nostra città. È proprio in quel quartiere, però la comunità offre anche un momento, un momento di pace e raccoglimento in cui c'è la preghiera e c'è effettivamente l'ascolto della parola e c'è la possibilità di portare fisicamente anche con dei bigliettini di carta sui quali scrivere i nomi degli ammalati, dei nostri cari, dei nostri amici, dei nostri conoscenti che vengono posti sotto l'altare. E quindi questo è proprio anche un grande invito che vogliamo fare a tutti i tristini e approfittiamo di questa vetrina di cui ringraziamo Telequattro per invitare tanti ogni martedì alle 18.30 la nostra preghiera, ma soprattutto al primo martedì del mese perché quella per la malattia è una grande consolazione. E se posso dirlo rispetto al discorso che facevamo sulla speranza, io e Valentina abbiamo anche riscontrato un crescente interesse fra i giovani. Questo è buono. Questo è buono perché i giovani hanno una grande sensibilità e si interrogano tanto. Si interrogano e un effetto pratico, visibile, è quello della loro grande partecipazione a dei servizi tanto importanti come quello della distribuzione dei panini alla stazione la sera. Sono dei ragazzi che vedono l'immigrazione, si interrogano e vogliono dare anche una risposta concreta. Lì sarebbe bello anche, però poi scattano anche delle limitazioni che riguardano la privacy, il rispetto, eccetera. Però sarebbe bello magari fare un'uscita assieme e far vedere appunto il lavoro. Però mi rendo conto che non è probabilmente sempre possibile, bisogna andare con molta cautela, eccetera. Però credo che il lavoro vostro e anche di altre realtà che poi danno una mano dovrebbe essere in qualche modo documentato. Al di là poi delle polemiche che sono sempre, l'altro giorno ho sentito una telefonata, in genere noi non interveniamo mai sulle telefonate, però una telefonata che diceva, beh, per evitare che ci siano immondizie in zona, piazza della libertà, eccetera. E questa dice, come le gattare sono obbligate a mettere a posto, non si possono fare questi paragoni con tutto il rispetto per gli animali, eccetera. Però secondo me in qualche modo, magari ne parliamo, se fosse possibile organizzare qualche cosa con tutto il rispetto delle persone, eccetera, non sarebbe male fare un'uscita, insomma, per documentare questo lavoro. Un altro aspetto della comunità e del nostro lavoro è che l'amicizia riscatta. Per cui probabilmente se voi veniste in un nostro pranzo o un evento nostro, non capireste chi sono gli aiutanti e chi sono gli aiutanti, perché l'amicizia rende tutti più belli, più felici e quindi è difficile distinguerlo. Ma difatti devo dire la verità, che io le prime volte che ho intervistato i membri della comunità di Sant'Egidio, ho sempre trovato questo, diciamo, gli argomenti non sono facili da trattare, perché entrate in contatto con delle cose che magari si cerca non di nascondere, ma delle quali non si parla tanto volentieri per tutta una serie di ragioni. Però come tutte le persone vostre, anche per esempio della comunità di San Martino al campo, eccetera, quando vengono e parlano di queste cose, lo fate sempre con il sorriso o comunque con un atteggiamento che spiega bene il vostro coinvolgimento. E questo è secondo me da rimarcare, ecco insomma, cioè si vede che lo fate volentieri, adesso poi non è sempre semplice, mi rendo anche conto. Sì, perché un po' tutti noi siamo alla ricerca di anche rapporti veri, sinceri con altre persone, e spesso riusciamo a costruirli, anche grazie al fatto che questi rapporti li costruiamo insieme l'uno con l'altro, aiutandoci l'uno con l'altro, anche in situazioni complicate. Però ecco, per me, che ho visto questa comunità appunto come un piccolo semino, ogni volta che sono in un evento della comunità in cui ci sono tante delle persone che aiutiamo, vedere questo albero grande che ha dato così tanti frutti, con tante persone che vi si riparano, è ovviamente una felicità, non posso non sorridere. Eh beh no, credo. Ultimissima domanda, non so chi mi risponde. Sono dei rapporti che è più facile instaurare o mantenere? Allora, la fedeltà nel nostro tempo è una delle cose più difficili. E la fedeltà è anche un po' una regola del cuore, per cui è difficile mantenere i rapporti, però è quello che ci rende diversi. Allora, ricordatevi che la sede della comunità di Sant'Egidio sta in via di Romagna 20? 22. 22, sbaglio sempre. In via di Romagna 22, se qualcuno vuole entrare in contatto con la comunità, sia perché ne ha bisogno, sia perché magari vuole dare una mano, eccetera, cosa fa? Viene semplicemente in via Romagna. E il sabato pomeriggio? Ecco, il sabato pomeriggio in via Romagna. Il sabato pomeriggio in via Romagna 22. Perfetto. Dov'è? A che altezza è? Perché io sono via 24 per... È di fronte alla RAI per capirci, all'incirca. Ok, perfetto. Quindi sul piano. Sul piano, sopraelevato. Sopraelevato. Allora, grazie a Valentina Bach e Gabriele Paoletti per essere stati con noi. Buon lavoro, davvero. Grazie. E compimenti per quello che fate, veramente. Andiamo in pubblicità e poi cambiamo decisamente argomento. Grazie. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come annunciato, è tornato nei nostri studi il professor Claudio Tiribelli, che è direttore scientifico della Fondazione Fegato, con il quale parleremo appunto dei progetti in essere della Fondazione, però credo che non gliel'ho mai chiesto nelle volte in cui ci siamo visti. Quando è nata? Allora, la Fondazione è nata come fondo per lo studio della malattia del Fegato nel 1981. I accidenti. Nel 2008 è cambiato status e è diventata Fondazione Onlus. Ecco, è un periodo, che lo ripeto fino all'esaurimento, siccome vado incontro ad un compleanno tondo, è un periodo in cui mi piace, virgolette, storicizzare le cose, chissà perché. E quindi immagino che nel 1981, era un secolo fa, però è veramente tanto. Allora, quello era un fondo, aveva una dimensione molto piccola, però è stato il germe su cui si è costruita poi la fondazione. Fondazione che è stata possibile da due grandi eventi. uno, una forte donazione della Fondazione Cassa di Spanio di Trieste, a quell'epoca esistevano dei grandi finanziamenti, che ha permesso di comprare gran parte del macchinario che adesso noi abbiamo e che dopo abbiamo cambiato negli anni, e due, il fatto che la Regione, nelle persone dell'assessorato alla sanità, dell'assessorato del lavoro di quell'epoca, si sono messi insieme, hanno sponsorizzato l'idea e sono diventati i primi soci fondatori della fondazione, dando una quantità di contributo fisso all'anno che ha permesso di pianificare. Da là poi evidentemente siamo cresciuti, eravamo molto piccoli, adesso siamo diventati molto grandi, e le cose sono sviluppate. Però direi che questo fa parte della storia. Infatti noi quest'anno faremo i 15 anni di fondazione, e quando abbiamo fatto i 10 anni abbiamo fatto una grande festa, siamo stati ricevuti anche dal Consiglio Comunale che ci ha dato la targa, e devo dire che è una cosa molto bella. Devo dire che il grande salto è il passaggio da un qualcosa di locale a un qualcosa di internazionale. Quanto ha marciato assieme, è ovvio ma la domanda la pongo ugualmente, immagino che questi anni siano stati caratterizzati anche da progressi notevoli per quanto riguarda la ricerca. Sì, sicuro. Ma la fondazione, come lei sa, ha tre grandi scopi. Uno, la ricerca, la cura del malato e l'educazione, cioè il fatto di formare personale. La ricerca viene fatta massimamente da noi a Basovizza, ma con dei laboratori sparsi nel mondo. Abbiamo un laboratorio in Argentina, uno in Messico, uno in Indonesia, uno nelle Filippine, uno a Praga, e uno che stiamo costruendo in Olanda. Questo perché? Perché la ricerca, secondo noi, ha due grandi vantaggi. Uno, fa parlare personaggi di tipi diversi. Ritengo che la scienza la colla, soprattutto in un momento drammatico, con quello che stiamo vivendo noi, basta guardare un telegiornale. Devo dire che se lei va all'ICTP, lei vede ricercatori russi e ricercatori ucraini che lavorano tranquillamente insieme. Due, la parte della cura del malato, perché la ricerca che noi facciamo è per definizione traslazionale, vuol dire io ho un problema sul signor Rossi, porto il problema del signor Rossi a livello di laboratorio, con modelli animali o soprattutto modelli cellulari. In questo momento i modelli animali stanno veramente sparendo, si fanno solo modelli cellulari, che limita anche in parte la traslazionalità del risultato all'uomo. Ritengo che la ricerca sugli animali vada fatta, con tutti i paletti del caso. Noi in Italia abbiamo una legislazione molto stretta e molto buona, devo dire in questo. E poi per ritornare al paziente, perché se no se uno con questi risultati si li tiene nel proprio tavolino o lo pubblica su un giornale non c'è guadagno per la comunità. E la terza cosa, per far questo abbiamo bisogno di mani e di teste. La fondazione ha una struttura molto forte di seniors. La fondazione in questo momento, e l'altro salto che abbiamo fatto recentemente, si è divisa in varie unità operative, c'è l'unità operativa del cervello del fegato, c'è l'unità operativa del cancro del fegato, c'è l'unità operativa della malattia metabolica e c'è l'unità operativa della terapia sperimentale del cancro. E questo è ogni unità a un senior che gestisce. E poi c'è una serie di giovani che possono essere dottorati di ricerca, studenti o ospiti. C'è questa internazionalizzazione della fondazione, perché molto spesso abbiamo anche parlato di medici che arrivano da altri paesi, eccetera. Ha ancora senso parlare di internazionalizzazione della medicina? Cioè a dire, alcuni paesi sono per tutta una serie di ragioni più specializzati in determinati aspetti che altro, oppure c'è una... Le do due esempi. Uno, la fondazione dall'anno scorso ha nel consiglio di amministrazione, che si chiama il consiglio di indirizzo, in cui io siedo ma fortunatamente non ho diritto di voto, perché l'oste non può dire che il vino è buono, cioè non posso chiedere denaro a me stesso. Uno dei soci della fondazione è il governo filippino. Il ministero della ricerca filippino ha dato un rappresentante, che poi è il ministro, all'interno dello scopo. Questo perché? Perché come le ho detto l'altra volta, le Filippine sono uno dei paesi che hanno chiesto la fondazione di creare una serie di personaggi che possano portare avanti la ricerca e soprattutto che possano portare avanti una rete patologica nazionale. Domanda, ma perché questo? Ma perché le Filippine hanno un background genetico completamente diverso dall'Europa, ma soprattutto all'interno delle Filippine, che sono come lei sa 10.000 isole, ci sono grandi variazioni di tipo genetico. Se lei va dal nord delle Filippine e dal sud delle Filippine, sono due paesi completamente distinte. Tra Prensi, al nord sono cattolici e al sud sono musulmani. La stessa cosa è presente in un altro nostro paese con cui stiamo collaborando da molto, che è l'Indonesia. L'Indonesia ha 17.000 isole. Allora, la domanda è perché? Perché tutto quello che noi riusciamo a ottenere da noi in Europa e nelle Filippine, mettendolo insieme, ci può dare delle indicazioni molto importanti. E più ampie? Non solo, ma poi la differenza regionale, perché in Europa sostanzialmente quello che avviene da noi avviene anche attorno, ma con un background genetico molto diverso, come nei paesi del sud-est asiatico, è importante sapere, ad esempio, che in alcune regioni alcune patologie sono maggiori che altre. E questa è la seconda parte, un altro dei cavalli di battaglia della fondazione, e, come lei sa, l'Ittero. L'Ittero non è Natale, perché i bambini diventano gialli, come riusciamo a far sì che non diventino troppo gialli, quindi siano danneggiati. Noi adesso abbiamo, appena concluso, abbiamo coordinato uno studio sempre nelle Filippine, in cui una ricercatrice insieme a noi ha scelto 12 ospedali sparsi nelle Filippine e ha misurato, con un strumento che Fondazione ha creato, insieme a una start-up, che adesso è diventata una company, presente sempre nella ricerca della BiliMetrix, il livello di bilubina nei neonati a 24 ore. Ed è stato dimostrato in maniera molto chiara che a 24 ore non può avere un'indicazione che coinciderà negli altri 48 ore, perché il picco di rischio passa da 48 a 70 ore, quando il bambino è già a casa. Quindi chi si accorge che il bambino è eterico è la mamma. Sì. E quindi è. Ora, è evidente che se il bambino è eterico ed è a Trieste è facile portarlo al burlo, ma se è in un'isoletta sperduta delle Filippine o dell'Indonesia è un po' più difficile. Questo è uno. E, tanto per dire, stamattina, all'1 di mattina nostra, che sono le 8 di mattina nelle Filippine, c'è stata la lettura magistrale del congresso di neonatologia della società filippina, è stata fatta da me, in remoto, evidentemente, ed è partito su come possiamo far sì che le Filippine possano inventare forse il primo paese al mondo di fare uno screening neonatale a tutti i neonati per prevenire l'elitto neonatale severo. E questa è una cosa di cui andiamo particolarmente fieri. Le ricerche, questa è una cosa che a me incuriosisce sempre, perché noi abbiamo, come dire, noi lavoriamo con i tempi molto brevi, nel senso il lavoro nostro deve essere pronto ieri. Il lavoro invece della ricerca è un lavoro che si sviluppa su tempi molto più ampi, insomma. Sì e no. Perché sì e no? Sì e no, perché la ricerca ha alcuni punti importanti. Uno, il punto che chi fa ricerca, che in genere è il giovane sotto la supervisione di un esperto, ha bisogno di avere risultati e pubblicarli. Perché le pubblicazioni scientifiche sono l'unica moneta con cui noi possiamo pagare un giorno il ricercatore. Se lei pensa che i nostri dottorati di ricerca prendono una paga attorno a 1200 euro al mese, in tre anni noi dobbiamo dargli almeno 4 o 5 lavori su riviste internazionali solide, in maniera che loro poi entrano nel mercato e possono mettere sul tavolo un curriculum vitae che sia competitivo. È l'unica maniera per pagarli. Due, qui c'è una certa urgenza per dire finisco il lavoro e lo pubblico. Due, ci sono delle date fisse per fare rendicontazioni nei grant internazionali. L'Europa ogni sei mesi ci chiede di fare un report di dire cosa abbiamo fatto e che cosa abbiamo ottenuto. L'Europa è molto burocratica in questo. Ci sono delle iniziative che poi devono essere portate avanti in tempi ragionamente brevi. Faccio un esempio. Se noi vogliamo fare una biobanca, cioè per creare una serie di strutture che mettono via dei tessuti che sono qua o che sono nel resto del mondo, ecco dove l'internazionalizzazione è importante, noi dobbiamo far sì che questi tessuti abbiano una loro scadenza e quindi bisogna fare presto. Sì, sì, sì. E quindi è anche questo. E l'altra cosa importante è che noi non dobbiamo mai dimenticarci che uno dei nostri, cioè il nostro maggiore cliente è il paziente. Il paziente non può essere fatto aspettare. Io credo che sia profondamente ingiusto che i pazienti aspettino. La fondazione, adesso vediamo se riesco a formulare correttamente la domanda, la fondazione non lavora con il paziente davanti. No. Questo che tipo di, come posso dire... Di problemi crea? No, non vuol dire, che tipo di rapporti instaura? Allora, la fondazione sta facendo insieme alla regione, sta bagliando un'ipotesi che secondo me potrebbe essere molto importante. Allora, noi abbiamo una serie di punti di riferimento clinici, ospedali, che sono sia in regione, Trieste, Udine, Pordenone e Cro, ma anche a livello nazionale. Noi collaboriamo molto fortemente con un IRCS, che è l'unico IRCS che si occupa di fegato, che è a Castellana e Grotte, in provincia di Bari, un ottimo centro, con la Bicocca di Milano, con l'Università di Pisa, con l'Università di Padova, con l'Università di Verona. Cioè, tutta una network cooperativa in cui io vedo il paziente, metto via dei campioni che gelo e dopo di che analizzo. Però questo, secondo me, va fatto a un livello molto più interattivo. Mi spiego. Quello che manca in Italia è un vero liver center, cioè un centro in cui c'è il paziente, i laboratori. Quello che è abbastanza normale in Europa, ed è anche molto normale negli Stati Uniti, per dirle, uno stato povero come il Kentucky, con cui noi abbiamo dei rapporti molto forti di ricerca, ha investito 42 milioni di dollari in dieci anni per creare un centro di ricerca biomedico che va dal fegato al reno e all'Alzheimer. Questo perché? Perché questo è anche attrattivo, perché il paziente si sente protetto. Io vado là e mi dice, ora, tenendo presente, uno, che il Friuli è difficile ad arrivarci, che se un paziente viene dal sud ha tanti filtri a cui si fermano, Napoli, Roma, Bologna, Milano, Torino o Padova, quindi quello che noi dobbiamo fare è cercare di dare una struttura che sia concorrenziale in termini operativi, non che siamo più bravi, ma che ci sia, in cui c'è la parte clinica, la parte chirurgica, intendendo, quindi tra pianti, e poi anche la parte di ricerca. Ne stiamo discutendo con la regione, sembra che ci sia un grosso interesse in questo, è evidente che una cosa di questo genere ci metterà 4-5 anni a essere fatta, però credo che sia ragionevole. Nel frattempo è quello che io dico, è il centro clinico della fondazione di Fuso, come gli hotel di Fuso, in cui non c'è, c'è un'interazione clinica, i nostri ricercatori vanno quotidianamente, una volta a Catinale, adesso al Maggiore, a prendere campioni. Abbiamo una forte collaborazione con la chirurgia bariatrica, in cui i grandi obesi vengono operati e i nostri chirurghi, che lavorano con noi, che pubblicano con noi, raccolgono un po' di grasso o mentale, una biopsia di fegato, dietro con sesso informato del paziente, evidentemente, e questo ha creato da noi una biobanca di pazienti bariatrici, di fegati e di campioni biologici e di pazienti bariatrici di 500 persone, ed è la seconda biobanca più importante di bariatrici in Europa. Queste sono le dimensioni in cui, secondo me, vale la pena di fare. E credo che questa sia la prospettiva. Dobbiamo capire che la massa critica è importante per raggiungere un risultato. E qua dobbiamo sfogliarci dal fatto che io sono più bravo, e questo purtroppo non è tanto facile. Dal punto di vista della diffusione delle malattie, mi rendo appunto che quando si parla di malattie del fegato è un mondo, com'è la situazione? La diffusione è cresciuta? È cambiata lo scenario, mi spiego. Quando lei, ai tempi miei, quando io ero studente in medicina, negli anni fine ai 60, vedeva un soggetto con cerrosi, la prima cosa che chiedeva è quanto bevi. Perché il più grande pericolo per i fegati di quella età era l'alcol. E queste avevano ragioni importanti, soprattutto nel Veneto dove io ho studiato, i soldi non ce n'erano e l'alcol era un qualcosa che mi dava tante calorie. E me lo facevo in casa. Dopodiché c'è stato il momento dell'epatite, l'epatite C, prima l'epatite B e dopo l'epatite C. Noi abbiamo avuto negli anni 90 e 2000 una pandemia di epatite C, che non è quella che era acuta, era quella che tutti noi abbiamo avuto il rischio di prendere negli anni 50-60, quando non c'era tutta una serie di attenzione. Le faccio un esempio. Se lei va in Egitto, il paese che ha la più alta incidenza di epatite C del mondo, c'è una zona che è nel delta, che si chiama Tanta, in cui la positività all'epatite C nella popolazione è il 60%. E questa è riconducibile a una campagna di vaccinazione in massa fatta 20 anni prima contro la schistosomiasi, in cui si vaccinavano tutti con lo stesso agro praticamente. L'epatite C è sparita adesso, abbiamo ancora quello che rimane nei pazienti, però l'epatite C è acuta, non ci sono più, perché prima di fare qualsiasi voglia cosa il sangue si testa. e una delle cose che noi abbiamo avuto è anche l'infezione da sangue durante le trasfusioni negli anni 70. Adesso questo rischio non c'è più e tutto adesso è disposable, si prende, si usa, cioè non si ricicla. E adesso invece è arrivato il terzo scenario, che sta avendo un boom, che è l'emmanattia di fegato da sindrome metabolica, cioè soggetti con diabete, soggetti attorno ai 40-50 anni, con diabete, tipo obesi, modestamente ipertesi, e col fegato da rasso. Ognuno di noi va a fare un'ecografia e molto spesso dice lei ha un fegato osteotosico. Perché? Perché tutti noi abbiamo un metabolismo che non solo è lento, ma in cui il conto in banca tra quello che entra e quello che esce è molto più strato verso quello che entra che quello che esce. E questo è importante perché mentre un signore di 70 anni con la sindrome metabolica, cioè con la statosi, con il diabete, non morirà di cirrosi. Capito? Perché morirà di malattie cardiovascolari o di ictus. Questo invece è un problema enorme per gli adolescenti. E oggi come oggi, i nostri adolescenti, il 40% è sovrappeso. Finisco. Ed è stato visto che la possibilità di avere una malattia severa di fegato, quindi con necessità di trapianto, a 40 anni, è legata a una malattia metabolica attorno ai 14 anni. Quando noi parliamo di obesità, siamo portati a pensare, a ritenere obesi quelli che sono protagonisti di quel discutibile programma televisivo che si svolge in America, dove ci sono delle persone veramente enormi che poi calano di peso con questo dottor Nosara. Ma bene, pensiamo bene. Perché la ripeso nei grandi obesi l'unico è la bariatrica? La chirurgia bariatrica. Però il termine, diciamo così, proprio quando si è obesi, non occorre essere... Esiste un indice, che è il BMI, l'indice di massa corporea, la cui formula si trova in internet. Il peso è per il doppio dell'altezza, per il quadrato dell'altezza. Fino a 25, 1 è normale, da 25 a 30 è sovrappeso, oltre 30 è obeso. Questa è una cosa molto semplice. Ed è evidente, diciamo così, questa obesità, come dire... Beh, è uno in cui uno dice, è un po' rotondetto, è molto rotondo. Esatto, ho capito. Il problema qual è? Le ripeto, il problema dell'adulto è un problema sicuro, il problema grosso è un problema di tipo... Per il pericolo. Tant'è vero che la fondazione, insieme al CONI e all'assessorato, all'istruzione, ha portato avanti adesso un progetto in varie scuole del Friuli Venezia Giulia per dare ai nostri bambini delle indicazioni non terroristiche, ma sane di quello che deve fare. Ai tempi miei, ripeto, molto tempo, si andava a scuola con il panino, con la marmellata, adesso si prendono le merendine e le merendine sono piene di tutto. Una delle cose molto questionabili e piene di calorie cattive sono tutte le bevande gasate, tipo Coca-Cola, Fanta. Quindi tutto questo va... E poi i nostri bambini stanno davanti a un computer e non camminano, perché il loro tempo è iper pieno. Io vedo le mie nipoti, girano come trottole, perché c'è da fare questo e da fare questo. Quindi noi dobbiamo cercare di tornare un attimino a un discorso di far sì che i bambini si muovano di più, ma soprattutto che mangino meglio. Cioè l'uso ad esempio di olio extravergine oliva, Evo, la fondazione ha fatto una convenzione con le città dell'olio, quelle che fanno l'olio, l'olio extravergine oliva è un ideale antiossidante. Solo che se il bambino non conosce l'uso dell'olio d'oliva, e questo viene fatto nelle messe, non tornerà a casa e dire mamma, dammi. E questo è, secondo me, un'educazione. Tenga presente che questo progetto, che è un progetto molto bello, anche graficamente bello, lo stiamo esportando nelle Filippine, perché abbiamo avuto una coincidenza che è abbastanza interessante. Uno dei nostri nuovi dottorandi di ricerca filippino è un nutrizionista. Ho capito. Il quale si è dato disponibile insieme al loro governo di tradurre quello che noi mangiamo in Europa in quello che non mangiamo. In quello che si mangia finisce. E questo anche perché nelle Filippine l'obesità infantile è il 50%. Abbiamo tempo, sì, ancora per una domanda che forse esula dal... Però è più una riflessione che volevo farle fare, no? Nel senso, noi stiamo in qualche modo, forse... Ma insomma, stiamo già storicizzando gli anni della pandemia, no? Sembrano ormai appartenere ad un passato... Le abbiamo rimossi. Ecco, le abbiamo rimossi, eccetera. Abbiamo rimossi anche, e anche lì non è passato tanto tempo, abbiamo rimossi anche l'AIDS. Facciamo bene a rimuovere... Ma veramente il Covid si sta sfruttando perché c'è il vaccino. L'AIDS non c'è il vaccino. E qui ci sono ancora casi di AIDS. Più gestibili... Sì, non se ne parla. Però c'è gente che ha l'AIDS da 30 anni e che continua a essere con noi. Noi non dobbiamo andare a mode, dobbiamo vedere quello che ci serve. Oggi come oggi, una delle copertine del Time, tempo fa, si chiama... Era Globosity, per dire la pandemia globale di obesità. Basta vedere nelle nostre strade. Sì, sì, sì. Ma io ho visto un filmato o una serie di foto contrapposte dove si vedeva, credo, la stessa strada di New York negli anni, fine anni 40, dopo la fine della seconda guerra mondiale e dove si vedeva della gente, adesso non so, il concetto di normalità è abbastanza... Comunque, gente normale, tranquilla, eccetera. Stessa strada adesso ed effettivamente fa impressione. Lei vede i filmati degli anni 50? Sì. Nessuno l'ha obeso. Sì, 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 sì. Perché non c'era da mangiare, evidentemente. Però credo che questo sia una cosa importante. E noi dobbiamo anche capire che dietro l'obesità, ahimè, c'è una quantità di idee folli, tipo ti faccio perdere 7 chili in 7 giorni, come il film famoso, i nutraceutici. La gente non deve capire che il peso è come il conto in banca. Se io guadagno 10 e spendo 11, anche se ho 10 milioni e spendo 11 milioni, divento povero. Cioè, dobbiamo spendere di più. E poi è meglio... È molto più semplice andare in farmacia e prendere l'integratore. È meglio affidarsi a chi queste cose le sa, spendere di più... Ma c'è, e poi avere... Ci sono dei programmi che mandano a casa il cibo. Sì, sì, questo mi pare veramente una roba abbastanza folla. Questo puramente è un discorso che fa bene alle case di chi produce. E non di chi le prende. Professore, grazie per essere con noi, buon lavoro. Ci rivediamo tra tre mesi così vi faccio un update. Quando vuole noi siamo qua. È sempre un piacere venire da voi. Grazie, grazie davvero. Noi ci vediamo... Oggi è giovedì, sì, quindi ci vediamo domani. Domani l'appuntamento con Trieste in diretta è dedicato alla cultura. Parleremo di teatro e di cinema. E poi parleremo di un libro che svela la Trieste mistica. Ci vediamo domani alle 18. Bello. È un bellissimo libro, abbiamo visto un po' di immagini. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.